Eccoci di nuovo insieme. Vi avevo promesso stamattina che avremo parlato di due prodotti culturali della Svezia. Il secondo è un documentario che esce nel 2015. Il regista in realtà è un italiano che si naturalizza in Svezia, Erik Gandini. Il documentario del 2015 si intitola la teoria svedese dell'amore. Stamattina, non so in virtù di quali sollecitazioni, probabilmente questi consigli igienico-sanitari che prevedono che noi dobbiamo stare abbastanza distanti l'uno dall'altro, l'una dall'altra, hanno probabilmente sollecitato l'affioramento di questo ricordo. Un documentario che io non ho visto prima di stamattina ma che avevo registrato nella mia mente mi ero appuntata quando uscì e poi quando veniva citato così in maniera informale anche da alcune mie amiche come Elisabetta, mi ero appuntata che avrei dovuto vederlo. E' arrivato il momento, l'ho visto stamattina. Insomma io adesso voglio proporvi questa questa visione, è un documentario di cui vi metterò il link nella pagina, nella nostra pagina e potremo anche commentarlo in maniera molto molto libera come sempre. Perché vale la pena guardarlo? E' soltanto un'ora, anzi poco meno di un'ora. Vale la pena guardarlo perché ci sollecita delle riflessioni che riguardano le nostre società cosiddette avanzate. Alcuni interrogativi che hanno molto a che fare con la riflessione pedagogica, cioè sul fine ultimo dell'educazione, cioè a cosa serve l'educazione, a cosa serve la crescita, a cosa serve, cioè qual è il fine del nostro stesso essere al mondo. Di cosa parla questo documentario senza, come si dice adesso, spoilerare troppo? Parla del modello svedese, del modello sociale svedese che a partire dagli anni 70, dal 72 in particolare, diventa molto focalizzato sulla libertà individuale e sulla possibilità di autorealizzazione di ciascuno. È un'idea quella che viene promossa dal partito socialdemocratico, quindi parliamo davvero di scelte istituzionali che poi si sono tradotte nel famoso welfare del nord Europa, che nasce un po' dall'idea appunto della liberazione, dall'emancipazione dei legacci della società tradizionale. E per questo viene fuori un modello di welfare, quindi di sostegno alle necessità comuni dei soggetti che passa fondamentalmente attraverso le istituzioni, ma che vede poi nei legami sociali prevalere una visione completamente individualistica. Le due cose non sono in contraddizione, come vedrete nel documentario. Il risultato è una società che è profondamente, come dire, benestante. Noi stessi spesso, da questo angolo di mondo che è il confine dell'impero, il sud del sud Italia, il sud del sud dell'Europa, guardiamo a questi nord come a delle terre promesse che di certo offrono occupazione e ancora adesso hanno da offrirne molta più di quella che noi ne abbiamo qui e che permettono tutta una serie di aiuti, per esempio, alle famiglie, per l'infanzia, parliamo dei nidi, parliamo degli asili, che sono anche molto famosi in tutto il mondo per la loro configurazione didattica. Vale per la Finlandia, di cui abbiamo parlato spesso in passato e su cui si è costruita quella puntata di presa diretta della settimana scorsa che in parte dice cose interessanti, in parte dice cose poco interessanti, ma ne faremo oggetto di discussione in un altro momento. Così come il famoso modello danese, quello fondato sulla felicità. In effetti se si guardano i rapporti internazionali, il rating, cioè le classifiche in cui si attribuisce un punteggio, in questo caso per felicità, certo un po' difficile da definire, ma i parametri andrebbero tutti, come dire, analizzati anche dei costruiti, ecco se si guarda i rapporti internazionali il nord Europa certamente eccelle, cioè fa parte di Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, così come anche Olanda e Svizzera, stanno in cima alle classifiche. Sono posti dove non si patisce la fame, dove c'è un'organizzazione sociale molto precisa e dove ci sono servizi, come si dice adesso, eccellenti, eppure ci sono delle ombre. Ci sono delle ombre che il documentario analizza in maniera molto interessante. A un certo punto dice che così abbiamo avuto l'obiettivo di liberare le donne dagli uomini, i genitori anziani dai figli, quindi abbiamo potuto puntare sulla realizzazione personale che poi si traduce in lavoro fondamentalmente e autonomia. Si vede anche nel documentario, in un fotogramma abbastanza rapido, la costruzione di queste case e, se ci stiamo a pensare un attimo, svedese e anche Ikea, che punta moltissimo del suo marketing sulla possibilità di mettere ordine, un grande must del nord, quello di avere una casa perfettamente organizzata, in spazi molto molto piccoli. È anche vero che in questo marketing spesso compaiono i bambini, per cui uno pensa alla famiglia. Però se andiamo a guardare le dimensioni delle case, spesso proprio quelle pubblicizzate, sono davvero case molto molto piccole, che fanno pensare a, insomma, a un numero molto limitato di abitanti. E in effetti moltissimi svedesi abitano da soli, così come moltissimi svedesi a partire da quegli anni 70, fino a quando poi si sono sviluppate delle tecnologie molto fini, o comunque, se non molto fini, si sono diffusi proprio sotto forma di marketing, anche quello, moltissimi svedesi sono madri single, che si sono inseminate, come vedrete nel documentario, attraverso un kit, senza aver bisogno di cercare un partner sessuale o un partner affettivo. Ora, questi aspetti sono interessanti perché lanciano delle ombre su quei modelli, appunto, che vengono tanto sponsorizzati come perfetti e visti come dei paradisi anche da noi, anche da noi giovani, per dire noi, voi, voi giovani, che effettivamente fate molta fatica a potervi collocare qui, nella nostra, nel nostro contesto. Tuttavia, questi dati andrebbero incrociati, lo faremo attraverso un articolo che vi posterò del Sole 24 Ore, peraltro dell'anno scorso, quindi molto recente, molto aggiornato, per esempio su altri elementi, e cioè i tassi di suicidio all'interno di questi paesi, dove paradossalmente a tassi di felicità, ecco, non ben misurati, diciamo, non chiaramente misurati per noi, e poi, per esempio, la dipendenza da antidepressivi o il detenere un'arma o poi il suicidarsi, quindi tre elementi così inquietanti rispetto alla salute di una collettività, ecco, che balzano come degli indici molto molto elevati. Questo, per esempio, a differenza di Italia e Grecia, che entrambe sono molto in basso rispetto alla classifica della felicità, ma che per fortuna sono molto, ma molto, ma molto più in basso rispetto ai tassi di suicidio. Persino la Grecia, dove la crisi economica ha messo in ginocchio la società, i tassi di suicidio sono bassissimi, e questo qualcosa ce la dovrebbe dire. Il documentario fondamentalmente ci interroga su una dimensione, e cioè sulla dimensione del legame sociale, e sulla crisi del legame che attraversa la civiltà occidentale, come vedete in modi e in forme e con intensità diverse a seconda dei paesi. Nei posti dove il capitalismo, sebbene supportato da un forte welfare come quello nord-europeo, è molto avanzato, il legame sociale è estremamente blando, è molto debole. Nel documentario questo si vede soprattutto a proposito degli anziani, degli anziani e dei morti, di come si muore, no? Si muore da soli, morti, spesso senza la possibilità per chi, diciamo, scopre il morto o l'agenzia che si occupa di andare a riperire i parenti, senza la possibilità di trovarli questi parenti. Morti che si scoprono dopo settimane, perché finalmente dopo settimane, ma in realtà nel documentario troverete anche il caso di una persona morta da due anni, ci sono degli indizi che colgono i vicini di casa, quelli che sono i vicini di casa, ma nei corridoi di questi palazzi in cui i cubicoli dei piccoli appartamenti sono collocati, il senso di angoscia è molto forte, è proprio visibile, sono spazi dove non esiste la possibilità della condivisione, è proprio l'appartamento, cioè quel luogo a parte, che è isola, che non permette neanche di sapere che la persona accanto è morta da una, due, tre, quattro settimane. La crisi del legame sociale, cioè la focalizzazione sull'individuo e sulla sua realizzazione personale, trovano invece nelle nostre società ancora, come dire, difettose sul piano di quest'etica, per fortuna aggiungiamo, un contrappeso ben preciso nel legame che Illich definirebbe vernacolare, tra i vicini di casa, nella famiglia allargata, nell'incontro tra le generazioni che per noi è ancora possibile. E quindi è un documentario che sollecita moltissime riflessioni, soprattutto rispetto allo scopo dell'educazione, allo scopo dell'essere all'interno di una società. C'è un passaggio in cui la Svezia viene definita una società di individui. Che vuol dire essere una società di individui? Ha senso o c'è bisogno di un legame solidaristico che passa proprio dalla vicinanza fisica e dal contatto, dalla parola, dallo stare insieme, dal venire a contatto fisicamente gli uni con gli altri, dall'empatia. Parliamo molto di empatia, no? Se ne parla anche in Danimarca, dove la felicità è diventato un obiettivo ufficiale della politica educativa, del governo, dove si misura l'indice di felicità, come una vostra collega che ha fatto una tesi su questo, ben sa, Paola. Tuttavia la Danimarca è anche lo stesso posto dove la dipendenza da antidepressivi è la più alta d'Europa e dove il consumo di dolciumi è uno dei più alti al mondo. Sono contraddizioni. E allora lo scopo, lo scopo del nostro stare insieme, è l'empatia di cui tanto parliamo. Che cosa sono esattamente? L'empatia non è un concetto spirituale né mentale. E' questo il rischio in cui possiamo cadere quando parliamo di empatia e di neuroni. Parlare di neuroni, e basta, no? I famosi neuroni specchio, ci fa credere, ci fa cadere ingenuamente, non perché nelle neuroscienze sia scritto questo, ci fa credere ingenuamente che l'empatia possa essere un sentire che esula dal contatto. Una sorta di sentimento interiore, di atteggiamento. Ora, l'empatia è sicuramente anche questo, ma per attivarsi l'empatia ha bisogno di corpi. Certo, può avere bisogno anche soltanto di immagini, cioè anche pensare al mio fidanzato genera un certo tipo di reazione emotiva. Anche pensare alla sofferenza di un'amica che ha perso una persona amata può generare in me empatia. Ma questa è una fase successiva, secondaria per certi versi. Io per provare empatia e per arrivare a livello successivo, che è la compassione, un valore enorme, grandissimo, appartenente alla tradizione non violenta, ho bisogno di contatto. Un contatto che non è spirituale, è mentale soltanto, è proprio fisico. Io ho bisogno di vicinanza, ho bisogno di mani che mi toccano, ho bisogno di corpi, a mia volta, da toccare, da abbracciare. Gli interruttori, come ci spiega Daniela Lucangeli, sono interruttori fisici, non sono mentalizzazioni, non sono immaginazioni, io non mi fingo qualcosa nella testa, io ho bisogno di avere l'altro accanto, altrimenti l'empatia non si sviluppa. Ci sono aspetti interessanti del documentario che parlano anche di questo, cioè del fatto che magari in futuro le donne che vorranno avere un figlio da sole e quindi auto inseminarsi con la siringa, magari potranno avere dei contatti virtuali con il donatore, e cioè fondamentalmente toccarsi senza toccarsi. Allora la domanda per noi è, è proprio questo quello che vogliamo? Vogliamo davvero questo? Cioè cosa vogliamo noi? Di cosa abbiamo bisogno per essere felici? Di una società che ci propone come modello l'esclusiva realizzazione personale, ovviamente tramite il lavoro, ovvero attraverso la schiavitù al capitalismo e basta, oppure vogliamo dare spazio ad altre dimensioni che non siano soltanto l'espressività individuale e che quindi passano inevitabilmente attraverso la limitazione che l'altro è nella mia vita. L'illusione di potermi realizzare da solo è di fatto uno dei due versi della medaglia che vede dall'altro lato l'eliminazione del limite che l'altro costituisce sempre. È quello di cui parla nella fine del documentario Bauman, accennando non soltanto alla gioia della sfida di risolvere i problemi, per cui vivere in una società senza problemi paradossalmente genera suicidio invece che generare felicità autentica. Mentre laddove ci sono più problemi, come può essere l'Africa, dei migranti paradossalmente l'unità e la solidarietà tra le persone riesce a far sorridere i bambini come nessun altro bambino sulla faccia della terra. Ma c'è anche la dimensione proprio del confronto, del conflitto, della difficoltà relazionale che poi un'etica del legame e diremmo una Weltanschauung del legame comporta necessariamente. Eliminare il conflitto pensando a una socialità virtuale o a mantenere le distanze, semplicemente, cosa che a noi del sud non ci appartiene per niente, anzi diciamo pendiamo dall'altro lato della bilancia per fortuna. Ecco, quel modello lì ci piace davvero? È proprio quello che vogliamo? Siamo disposti a dire no, sicuramente. Però molto spesso la nostra educazione, i nostri modelli culturali portano invece, senza che neanche ce ne accorgiamo, a premere il pulsante dell'indipendenza, dell'autosufficienza. Ce la deve fare da solo. Non vi sostituite i vostri bambini, ce la devono fare da soli. Farcela da soli è farcela con gli altri. Sono due modalità diverse, distinte, di affrontare le difficoltà della vita. L'etica del farcela da soli ci porta verso una visione scissa, dualistica, distante, individualistica e quindi molto, come dire, prona ai dettami della competitività. Farcela con gli altri significa invece acquisire la competenza di chiedere aiuto, che è la competenza per la sopravvivenza, la competenza per eccellenza. Saper chiedere aiuto significa che sono già salvo, perché so attivare le risorse intorno a me e dentro di me, quindi sia le risorse interne che quelle esterne, in grado di permettermi di trovare soluzioni. Rimanere isolato significa aver perso la sfida della crescita, ma anche la sfida della banale sopravvivenza. Eppure quante volte noi incontriamo persone che sollecitano la dimensione dell'autosufficienza, invece che sostenere la competenza del chiedere aiuto. Il perché? C'è un'antropologia di millenni alla base di questo, ma sicuramente gli ultimi due secoli, quelli dalla rivoluzione industriale in poi, hanno contribuito moltissimo a sostenere, a evidenziare questo tipo di etica, a propugnarla come migliore, quella dell'autosufficienza, rispetto a un'etica del legame. Il problema è che chiedere aiuto comporta uscire dalla, come dire, da quella condizione di mania di onipotenza fortemente narcisistica che mi fa, che mi mette, mi mantiene nell'illusione di non avere bisogno dell'altro. Mentre chiedere aiuto mi mette di fronte alla mia vulnerabilità, mi mette davanti alla mia condizione esistenziale insuperabile e totalmente innestata nel mio essere di essere un essere bisognoso. In ogni momento, sempre, dell'altro. Questo non significa dipendere dall'altro, nella maniera, diciamo, patologica a cui siamo abituati a pensare alla dipendenza. Significa riconoscere, appunto, quella che Bauman, in maniera molto sintetica, come lui è capace di fare, chiama interdipendenza. Siamo tutti dipendenti gli uni dagli altri, ed è in virtù di questo legame che la specie umana è riuscita ad evolversi. È stato uno dei fattori evolutivi principali, la nostra capacità di rimanere uniti e di riconoscere reciprocamente i bisogni di ciascuno, ma anche la capacità di riconoscerci tutti bisognosi dell'altro e del riconoscimento che l'altro fa dei nostri bisogni. Ovvero, i nostri bisogni non sono gratificabili, non si possono soddisfare in maniera singola e individuale. C'è sempre bisogno di coltivare, a distanze diverse senza dubbio, un legame che mi salva anche da me stesso. Ecco, queste sono le lezioni interessanti di questo documentario, le tante sollecitazioni che in realtà si possono cogliere. Spero di non avervi annoiato perché nelle chiacchiere siamo arrivati quasi a 22 minuti, però questa è la minestra, la lezione la devo fare e quindi ve la ciucciate con tanto amore!